C'è una ragazza piccappata, eh? Ma non ce ne erano due? È down, la down, vai due, vai due, vai due, vai due, prima di da. È più bello. Non c'è nessuno, non c'è nessuno. No, non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Oh, non c'è nessuno. Ma attenzione. 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 E' il problema. Oh, non c'è nessuno. Madonna, la morte. No, non c'è nessuno. Io non sto facendo lì. Non c'è nessuno. E' il commentario ci appassio. Aga, attenziala. Grazie.